La mia anima è come una barca in balia di una tempesta, ho il desiderio di trovare un posto sicuro, ma come? Come posso trovarlo? La mia anima è come una barca in un storm. Come posso trovare un'intera? Un storm. Esprimere più chi è questo? Di chi è che ha fatto la domanda? Non so questo. Sapete tutti in inglese e meglio. Se non l'ha fatta nessuno passiamo alla prossima. Che ha fatto questa domanda? Non c'è, allora passiamo alla prossima. Anicocia, puoi esprimere un po' più? Forse lui non ha compreso bene la traduzione. Provate a traduzione. Io ho un inglese e un po' di puntazione. Il traduzione è meglio. Il traduzione è meglio. Il traduzione è meglio. È come una barca in un oceano. La terra sta muovendo il flore. E io devo trovare un po' di più. Ah, questo è il significato, significa che voglio essere bilanciato, sì, 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 ok, come trovare la pace, insomma, il bilanciamento? Vuoi stare nella coscienza dell'anima o nella coscienza del corpo? Perché l'anima è potenza marginale, marginale significa un po' di qua, un po' di là, un po' di qua, per essere nella coscienza spirituale, per vivere in quella coscienza stabile, giusto? Perché Gurudeva ti dice comincia il bhajan, cioè cantare Krishna, pratica, eccetera? In realtà vorrebbe dire canta 64 giri, però Prabhupada c'è stato buono, insomma, è misericordioso, però onestamente bisognerebbe che i giri fossero 64, perché la mia pratica serve per lasciare la parte dei sensi, e qui devo fare un bel confine, e quindi che in modo da poter fare, solamente con un piccolo tocco, trovare la coscienza dell'anima, quindi devo fare un punto, quindi devo fare una linea di divisione, quello che ha detto è che abbiamo fatto una riga molto grande nella parte della coscienza materiale, e abbiamo appena toccato quella spirituale, adesso dobbiamo fare una bella ritezza, che abbiamo già fatto una bella linea di divisione, di un bel solco, e questo ora capisca anche qui, è un solco nella coscienza materiale, però questo solco va fatto invece nella parte spirituale, perché la parte spirituale l'abbiamo toccata appena, si capisce? Ora si. Sì, è corretto. E allora? E allora? Perché se no la nostra natura di potenza marginale non se ne andrà, e allora sarà sempre un po' di qua, un po' di là, un po' di qua, un po' di là. Però Prabhupada, nella pagina quattro della Bhagavad Gita, lui dice che bisogna sviluppare la relazione trascendentale. Relazione trascendentale? Relazione trascendentale significa che se non c'è la forma, non esiste relazione trascendentale. Allora Prabhupada, infatti, in quel passo, menziona la Svarupa e la Svarupa Siddhi. E questo si chiama prayogena, cioè è lo scopo della nostra vita. Questo è un tipo di stabilità, di stabilità, poi non salti più qua e là. Secondo. Entendete? Tutto è lì, nella pagina quattro della Bhagavad Gita. L'altra domanda chiede, è possibile in questa vita spezzare il nostro karma? Il libero arbitro è una nostra illusione? È possibile in questa vita rompere il nostro karma? La libertà è un'illusione o è vero? E qui la risposta è, ma insomma, chi se ne frega di queste cose? Perché, vabbè, insomma, per scusate, sono di Firenze. Perché? Preoccuparsi. Insomma, sarebbe un po' peggio. Perché, insomma, impicciarsi di queste cose, insomma? Perché? Perché vi affliggete con queste cose. Affliggete. Da adesso bisogna partire. Da adesso bisogna partire. Quello che è passato, è passato. Da questo momento. E cosa mi arriverà? Positivo. Positivo. Good. I will accept that. E tutto quello che mi arriverà sarà positivo, lo accetterò. E se mi arriva del negativo, anche da quella cosa sentirò la misericordia. Perché me ne devo occupare, mi devo preoccupare di questo. Atma, in his hand, left, one baby is there. This baby is bothering for himself? Atma has to bother how to care him. His wife has to bother. Lui che si deve occupare del bambino, la moglie, si deve occupare del bambino. Perché io me ne devo preoccupare? Il mio maestro spirituale si preoccupa di me. Il mio maestro spirituale si preoccupa di me. Il mio maestro spirituale Radharani, Krishya, si preoccupa di me. Sperano per me. Puppet is bothering for himself? Puppet, puppet. Il marionetto. Il burattino. The player is bothering how he play. Il suonatore si preoccupa di cosa suonare. We are puppet. Burattinaio. Sì, sì, sì. Quello il burattinaio si... Hai ragione. Il burattinaio si preoccupa di come gestire il burattino, noi non il burattino. Però se io faccio, allora il burattinaio non si preoccupa. Perché io penso che sia buona cosa faccio e che buona cosa sta succedendo questo uomo fa per me. Dice perché io faccio le cose buone e quello che mi succede di negativo è quell'uomo che le sta facendo per me. E allora lui ti rimuove dalle dita che ti sta pilotando e dice ok, fai per conto tuo. Fai da te. Questo mi sta succedendo. Perché preoccuparsi? Basta preoccuparsi da adesso. Questo significa prendere rifugio. Questo significa Saranagati. Come ottenere il successo nella vita spirituale malgrato sono vittima dei miei attaccamenti? Come ottenere il successo nella vita spirituale malgrato sono vittima dei miei attaccamenti? E qui c'è da incrementare. Io sono una vittima Sono una vittima perché compio il delitto E allora dopo soffro Io sono in galera Sono in galera a causa degli sbagli che ho fatto E la vittima va in galera E la vittima va in galera Il colpevole va in galera E si prende la punizione E soffre E soffre Dice se uno vuole soffrire non c'è problema E se vuoi uscire dalla sofferenza Allora Maragio l'ha spiegato prima Si capisce? In effetti Questi sono i miei blocchi Sono i miei blocchi E sono questi miei blocchi che mi danno sofferenza E allora io incolpo gli altri e dico è colpa di quello, colpa di quell'altro, di quell'altro ancora Però non ci sono coinvolti Sono io solo che sono colpevole per i miei errori, dei miei errori Tu giudichi Perché giudichiamo quello, giudichiamo quell'altro? Perché non giudichiamo noi stessi Noi giudichiamo gli altri Te fai le cose giuste, te le fai sbagliate, te giuste, te sbagliate In questa maniera uno toglie il tempo necessario per giudicare se stesso Invece ogni secondo della propria vita dovrebbe essere utilizzato per giudicare se stesso E' chiaro? E' chiaro? La terza domanda è Posso chiedere di Krishna materiali benefici per progressare nella vita spirituale? Sicuramente Perché non? Però in quella maniera lo fai diventare Dio Allora diventa Narayana Krishna Decidi Dicete 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 Allora volete Brajendranandana Brajendranandana è uno al quale si da solamente Le gopi danno solamente, non chiedono Allora invece se uno fa differente allora diventa Narayana Allora ti da Quanto ti pare? Sempre di più E se invece uno non chiede e sviluppa la relazione non gli interessa nemmeno chiedere perché Krishna da solo provvede quello che ti serve Ti arrivano le cose automaticamente Dice Chiedetelo a uno che ha una relazione con Krishna Ve lo dice lui se non ci credete E le cose arrivano Uno quando ne ha bisogno le cose arrivano Anche a Vrindavana ci sono due gruppi Anche a Vrindavana ci sono due gruppi Uno è il gruppo Radhika Uno è il gruppo di Radharani E uno è il gruppo di Chandravali Chandravali dice Io sono tua Krishna io sono tua E ora io sono tua moglie E ora mi devi dare i soldi E quindi mi devi portare i gioielli Il zari Mi devi dare delle attenzioni, del tempo, tutto quanto Stai Devi stare anche con me E io ti controllo perché sei mio Non puoi andare da altre parti Non puoi andare da altre parti Mi devi chiedere prima Io ho dubbi su dove vai in giro Questo è il gruppo di Chandravali Tu sei nel gruppo di Chandravali Io ti amo E sarai sempre mio E ti faccio le cose Cosa ti piace E io sono pronta perennemente a fare quello che è necessario per te Sempre Qual è il miglior gruppo Un gruppo buono per associarsi? Qual è il miglior gruppo? Un gruppo buono per associarsi? You have to decide Decidete